Il show 2020 sono in compagnia di Riccardo Olivieri che è Product Manager per i fucili caccia e tiro di Beretta. Riccardo, questa novità è l'A400 Aplan, cosa ci racconti? Allora, l'A400 Aplan è una famiglia di prodotto che abbiamo introdotto un paio d'anni fa, con un buon successo. Ovviamente abbiamo, come di solito facciamo, iniziamo prima col calibro 12, quest'anno siamo usciti col calibro 20. In realtà quest'anno intendo questa stagione di caccia, ci sono già dei cacciatori che l'hanno provato, per adesso siamo molto contenti. Il fucile va molto bene, come potete vedere, prende tutta la linea della famiglia A400 Aplan, quindi astina ridisegnata, l'ergonomia della pistola anche. Nuovo look, siamo tornati più verso il classico, quindi un'incisione più bella con una carcassa nichelata. Sempre un fucile presa gas con sistema di chiusura a testina rotante e ovviamente l'innovativo sistema di kick-off calibro 20. Kick-off plus con cancio in legno. Questo sistema di riduzione in rinculo ci consente di avere una riduzione proprio della sensazione allo sparo di meno del 50% di rinculo. Quindi per il momento non sono previsti calci in polimero? In polimero abbiamo la famiglia Lite, che è molto simile come concetto a questo kick-off, però ce l'abbiamo già in esistenza. Solo che siamo riusciti a farlo finalmente sul calibro 12 e l'ultima vera novità è che l'abbiamo fatto anche sul calibro 20. Ti ringrazio molto.